Porta Senese si aggiudica la 49esima edizione del Palio di San Rocco. Cala il sipario sui festeggiamenti del perdono a figline che dopo due anni di pandemia sono tornati ai vecchi splendori con tantissime persone che hanno affollato il centro storico dove nei giorni scorsi è tornato anche l'arrivo del Giro del Valdarno. Con i suoi 48 punti Porta Senese ha conquistato l'avvessillo dipinto da Paola Imposimato battendo nell'ordine Porta Fiorentina, Porta San Francesco e Porta Retina. Sicuramente questo è un anno di ripartenza per tutti e sono molto felice di aver vinto il quinto palio di fila quindi gli è un orgoglio in più. Siamo stati fermi tanto tempo però ci siamo rialzati molto bene ringrazio tutti i miei contraddaioli per il contributo che hanno fatto senza di loro questo palio non esisterebbe perlomeno per noi perché noi si vive per la contrada per arrivare a questo punto e avere dei risultati in questo modo. Un augurio soprattutto a tutte le nostre contrade e alla Proloco perché hanno fatto un lavoro enorme questo perdono è il risultato di un grande lavoro di squadra e quindi ci diamo appuntamento alla cinquantesima edizione del prossimo anno.